Guardalo lì, fiero. Benvenuto Samsung. Congratulazioni, hai completato tutte le prove e le grandi prove del giro dell'isola. Il professore non ha freddo? Io? Ma figurati, il mio spirito arde più di incendio. Che è una mossa che tira nel Pokémon. Non c'entra niente. Torniamo a noi. Non ti resta che affrontare la Lega Pokémon. Ora sì che inizia il bello. Il Monte Lanachila è il luogo di origine. È il luogo in cui in origine si affrontava la fase finale del giro delle isole. Ma è anche in onore dei Pokémon leggendari che abbiamo costruito qui, il posto più vicino al cielo di tutta l'ora, la Lega Pokémon. L'ho letto da cani, ma fa lo stesso. Mi ricordo quando ho affrontato la Lega Pokémon dell'Alto Piano Blu. Ero pieno di entusiasmo. I capipalestri di canto mi hanno concierto per le feste, ma i miei amati Pokémon hanno sferrato le loro mosse mettendoci il cuore. E abbiamo perso. E il mio ultimo avversario, quel Doma Draghi con il mantello, Lance. Cioè che in realtà, boh, io tutta sta difficoltà, forse perché erano i tempi. Vai a capire. Boh, io sinceramente veramente non l'ho mai... Perché è iconico, no? Lance. Il Doma Draghi, quello che... Però non c'era neanche... Cioè non c'aveva neanche i Pokémon. Cioè c'aveva Redactyl, Geridos. Non voglio annoiarti con le mie storie, entra dai. Assicurati di essere pronto però, perché una volta dentro non si torna indietro. Non c'erano i Draghi, c'era solo Redactyl. Una delle tue Pokémon si è mossa. È uscito di Siduai. Bella raga, io me ne vado. Cosa? È il primo Pokémon che hai scelto. Guardando negli occhi il tuo fedele compagno, ti tornerà in mente le vostre avventure. Poi è alto quanto me, più di me. Ah, è finito lì. Sei pronto ad affrontarla? No, cioè sì, tanto. Sono un fascio di nervi. Anch'io i circuiti è fior di pelle. Bravo. C'è anche il discorso. No, nel senso... Io volevo allenare un pochettino i Pokémon, per questo avrei preferito andare anche di là. Se non si può... Non si può. Mi fate qualcosa voi? Vado? Ok. Allora, posso scegliere dove andare? Ma non è che lui è il campione, veramente? Quattro allenatori. Ma che è? È una nuova serie tv di... La trovate su... 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 Le leghe Pokémon di tutte le regioni sono presiedute da quattro allenatori fortissimi. I super quattro. Terra? Psico? Volante? Il primo non l'ho visto. Era normale o era acciaio? Perché era grigio. Forse acciaio avrebbe senso. Anche la lega di Pokémon di Lola ha i suoi super quattro. Forse in realtà ho capito anche, infatti quando stavo modificando il video e tutto, la tizia che ci ha consegnato, tra virgolette, il volante 1Z, con i punti di domanda, mi sa che è qua. Volante, tra l'altro. Potrai uscire di qui solo dopo averli sconfitti tutti e quattro, o se uno di loro ti sconfigge. Ce la farò. Questo non è detto. Ottimo, cerca di mantenere la mente lucida. Se sei nervoso, la tua squadra lo avvertirà. Non preoccuparti, andrà tutto bene, sarà un'esperienza indimenticabile. Forza Samsung e Komo. Perché sì. Portate la squadra alla vittoria. Mi aspetto lotte vincenti e senza esclusione di mosse. Sì, ma... Wallyu. Mi mancano un sacco di cose, me. Cos'è questa? Basta! Cioè, io voglio... Volevo un attimo modificare le MT. Volevo fare la squadra fatta bene. Se posso, eh. Ah, cioè, non puoi neanche proprio uscire. Non è che c'è tipo una lobby d'ingresso. No! Sei dentro. Vabbè, non c'era spazio. Per carità, va bene. Però, porca vacca. Va bene, dai. Ho cambiato qualcosina. Ho messo tipo... Fangobomba. A Salazzol. Ho messo Geloraggio. A... L'Alquanid. Poi non mi ricordo. Ho cambiato 3-4 mosse, comunque. Adesso le vedremo. E... Andiamo. Cioè, non so... Non so nulla, ovviamente. Quindi, contando che adesso partiamo con... Mi sembra l'acciaio, ma può essere anche normale. Spero che si vedano. In caso se volessimo cambiarla. Ecco dove andava. Ok, c'è ancora tempo. Sembra acciaio. Allora, in caso... Ok, Salazzol. Tapso, qui... Mi ha chiesto che si sentono altri di interno di Super 4 che, beh... Alla fine ho dovuto accettare. Non vedo l'ora di lottare contro te e Chris qui nella Lega Pokémon. Non c'è Chris. Beh, poi c'è... Lui è acciaio e lavorava di là che c'erano gli elettro, sì, insomma. Questa è quella che c'era su Smash. Questa è quella che c'era su Ultimate Remixato, ovviamente. Molto più... Che pompa. Allora... Klefki. Acciaio Folletto, mi pare. Quindi il veleno non funziona. Aia. Male male questo. Adesso vediamo. Pompiamo a bestia l'attacco speciale. Tra l'altro è più veloce Klefki. Klefki più veloci di Sarazzle, mi sta dicendo. Che livello è che non ho visto? Non ho visto... Ho visto un 5, ma non so se era il primo o il secondo. 56? Allora... 56? Qua loro sono tornati praticamente a... a... bianco e nero e allo scegli tu quello che preferisci combattere per primo. Quindi i livelli, in teoria, sono tutti uguali. Allora. Andiamo con un'antiparalisi perché devo essere più veloce. Non penso che sarò più veloce perché se prima ho usato quello... su, va bene. Vai. Eh, niente. Ma cacchio, ma... Com'è possibile? Quanto è veloce quel portachiavi? Ma che cacchio? Ecco, niente. L'unica volta che devo attaccare. Quanto cacchio è veloce? Ha sentato il riflesso, va bene. E allora adesso io... sto qua a perdere turni. Ah, dì. Fammi vedere se le bacche ho un attimo. Dove stanno le bacche qua? Non... non c'ho bacche... baccaliegi. Ah, una ne ho. Cioè, ma tutte le bacche che ho raccolto in giro per il gioco... Fine? Cioè, finite? Che schifo. Che bisone. L'ho raccolto... 3.000 bacche. Mi sono schiantato contro 200 granchi delle banane. Là, come cacchio si chiama? Del cocco. Bravo. Ok, non so perché ho attaccato prima. Via, uno. Allora, siamo a più 6, eh. Mi ricordo questo. Ductrio? Ductrio di Alola? Ductrio di Alola? Oh no, quanto è veloce sta roba. Questa mi disintegra. Questa raga mi disintegra, ve lo dico io. E io, cioè, ho voluto andarci lo stesso, eh. Niente. Ho perso 6 turni contro un Klesky. Per farmi disintegrare da un Ductrio. Incredibile. Ma andiamo con lui. Ah, ecco. Gli ho messo idrovampata. Aracqua ne dà idrovampata e geloraggio. Così giusto per... Per avere un attimino di... Porca merda. Ma non lo so, non voglio neanche vedere quanto resisto. Questo è un problema, eh, però. Questo è un problema perché... l'Azol fuoco era l'unico che mi serviva. Idrobreccia? Allora, quanto fa? 85-100. Può ridurre la difesa fisico. Che è meglio di idrovampata. Perché è speciale. L'avevo messa perché bruciava. Poi è il posto di bollaraggio, figurati. Gliela do. Fisico. E può passare la difesa e è buono. Magneton. Eh, ma immaginavo. Ho detto io, mi serve. Mi serve Salazol. Mi serve Salazol. Il Magneton... Posso andarci anche con Togedemaru. Si possono paralizzare? Posso paralizzare un elettro? C'è un po' tipo il bruciare un fuoco. Il... L'avvelenare un veleno. E l'avvelenare un veleno. Ok, mi metto a comprare un po' di roba. Sì, è vero. C'era il negozio Pokémon, ma era giù dalla montagna. Con calma, eh. Porca merda. Ben già perso. Ben già perso. È finita la Lega, ragazzi. È finita la Lega. Che è che, ma è molto diverso comunque quella di... Di Smash, eh? Ah no, li ho comprati, stavamo venti. Venti rivitalizzanti... Che cacchè c'hai te, Tapso? Chi è là dietro? Eh, Ducreo, Ducreo mi va sempre a rompere le palle. Io vorrei usare Congiura, devo pompare di nuovo. Allora, dov'è? Cioè, per essere non si è messi malissimo, ecco, con pozioni per pozioni rivitalizzanti. Non è quello. Io posso sapere perché fanno così tanto danno. Cioè, un fulmine ha tirato un fulmine 140. Mi sembra un po' esagerato, o no? Chiedo. Ha brutto colpo, certo. Cioè, 140 te lo accetto come brutto colpo. Ma non così a casa un fulmine 140. Contando la differenza di livello anche. Metagross. Metagross. Abbiamo Desiduai con Cucitura. E mossa a Z. Spettro. Potrebbe non essere male. C'è fiamme, sicuramente. Bustato a più 6 avrebbe fatto un po' più di danno, forse. Ma che Desiduai, magari, se la cava. Spiro. Anche perché potrebbe avere anche terremoto, che roba, o quello che fa una strage. Il birroccio. Cioè, mi stava guardando come proprio per sfida. Godo. Godo! Cioè, dall'alto, no? Io arrivavo, lui mi guardava così. Mi guardava verso l'alto. B-Sharp? Come o è morto? Eh, certo. Acciaio buio. Un breccia l'avrei... Probabilmente... Mangiato, però. Proviamo ad andare così. Anche se mi sa che acciaio resiste, vero? Va bene. Attacca per primo. Non ho visto a che livello era Metagross. Beh, lui è 56. Perché ti direi che forse Metagross è il suo, Pokémon. Sono tutto abbassato. Sono tutto abbassato. Beh, facciamo una cosa. Qua, tanto abbiamo già capito che... Ci sarà da soffrire. Ci sarà da soffrire abbastanza. Ok. Ora, se per favore, con moi entra... E... Con una breccia attacca per primo... Riusciamo a vincerla. Bra. È attaccato prima con Mu... Rispetto a... Allora, con id. Ok. Bene. Il Kukui mi ha dato la possibilità di lottare contro un allenatore davvero interessante. Kukui ha scelto gli allenatori più forti da Lola come Super 4. In modo che non potessimo affrontare la Lega Pokémon noi stessi. Vabbè. Vuole portare un vento nuovo da Lola. Sì, non ho capito il discorso. Così non combattere... Non facevano combattere... Perché non dovreste combattere. Più che altro. Ok. Cacchio... Adesso andare a vita piena... Mi sembra più che altro anche uno spreco. Per cui pochi PS. Magari in casa ci compriamo una... Super pozione. Oh, comunque hanno costruito tutto questo in nulla, eh. Per essere. Terra. Allora. Allora, allora, allora. Abbiamo Arachuanid. Abbiamo Desiduai. Non penso che sia un problema... ...con nessuno dei due. Ci può essere... Elix. Ok. Il protagonista è tipo roccia. No, pensavo terra. No, Arachuanid non va bene, allora, mi sa. Meglio di no. Meglio metterlo via. Ma scusa un attimo, ma Alixia... Alixia l'abbiamo affrontata. C'aveva roccia. C'aveva fossili. Lily, Panorith. Lily, Panorith. Ah, sono evoluti allora. Mi ricordo chi c'aveva. Lily, Panorith e un altro. Si saranno evoluti. E allora... Coleotero, roccia, erba roccia. Mi sa che conviene con Mo. E... Quasi quasi con Mo. E partiamo con Cuor di Leone. Non ci vedo in presentazioni. Ah, purtroppo no. Purtroppo no. Non capisco perché ti hanno riciclata, ma vabbè. Cioè, già Tapso, dici, vabbè, l'abbiamo incontrato, ma non è stato affrontato. Ci può stare. Ma non capisco perché lei... Cioè, basta veramente, basta che non mi abbiano messi i capi area. I capi delle isole, l'Ikauna. Cioè, quella volante... Eh, perché quella volante no. Sicuramente... Eh, Armaldo. Quella volante non l'avevamo vista e ci sta. L'altro che è Folletto? No, era Psico. La Psico, non è che ce l'ha dato? Non mi ricordo. Allora, fammo una cosa. Cuor di Leone, pompiamo. E poi... Andiamo... O di ferro scudo. Quasi, quasi, partiamo già con un ferro scudo. Un po' di special... Di difesa. Così in caso dobbiamo subire qualcosa. Un bel più quattro e niente. Buono. Sei stronzo. Niente, in caso non ha. E che cacchio. Scusate. Ah, valora. Toh. E non rompere. Più sei. E zitto. Ma lo distruggo. Tocca a fare così. Bravo, vedi? Questo è il... È il segnale. Cuor di Leone. Ci pompiamo. Attacco giusto per. Se lei è roccia. E mantieni roccia che c'aveva. Fa lo stesso. Va bene. Siamo comunque a più 5. Dovrebbe avere anche... L'Illip cradili. Non mi ricordo chi altra c'aveva. Però lei. Di roccia. Va bene, buono. Sfrutterò questo momento per una culina. Non si sa mai. Abbiamo anche il latte, volendo. Per questi momenti. 100, 100. Ok, va bene. Ricarica dopo. Se la uso il primo... Io ci sto, eh. Ci siamo, no? Siamo più 6. Ti attacco. Non mi ricordo. Ho capito. Cuor di Leone fa più 1, non più 2. Ho capito. Non so perché pensavo che facesse più 2. Nella mia mente sembrava una mossa potentissima. Dragodanza, cacchio. Chissà se la impara. Se avessi imparato Dragodanza. Mi mancano delle MT. Però non è giusto. Codo. Ho letto cosa fa anti-proiettile. Cioè praticamente funziona su... Come se fossero dei proiettili. Cioè tipo palla ombra. Non funziona perché? Perché è una palla che ti viene scagliata contro. E quello non funzionasse di lui. Buoio. No. Sarebbe farne uno tipo più... Tutto più save. Durante la battaglia. Velocità, difese speciali. Ok, 3 di mare, buono. Provo, passo. Manda pure. Qualsiasi cosa... Che viene scagliata e lanciata contro. Anti-proiettile te la para. Eh, c'è la vigore. Maledetto. Ho capito. Dovevi, eh. Cioè, è obbligatorio. Abbiamo anche le cure totali. No, palle. Che palle. Mo' lui mi riparalizza e io lo rifaccio... Ehm, infatti. Certo. È giusto così, eh. Perché non vorrei che dietro ci abbia il mondo. Geoporta. Fisico. Via 1. 2. Tra di lì ce l'hai, lo so. Aveva Nuspas magari all'inizio, non mi ricordo. Aveva l'Icaroc. Ah! Quello... Quello bello. Che cos'è l'Icaroc? Roccia normale? Per 4? Mmm, sì. Sì, non mi ricordo se era roccia normale o roccia buio. C'è un Pokémon roccia buio? E la tiranita. Vabbè. Ok. Gigalit. Vanda, vanda. Bellissimo. Sambio e fiume sarebbe stato carino prima. No, vabbè, però era roccia, quindi non avrebbe funzionato. Peccato. Vabbè. Ok. Next. Buono. Congiura? Congiura fa solo lo speciale, vero? Anche se è di molto... Ecco Cradili. Ah, è l'ultimo. Cos'è che aveva? Probopass e... E questo da nuovi? Via! Buono, buono, buono. Attenzione con Moe, eh? Si riprende la sua rivincita. Che non c'era neanche contro l'X, però... Almeno riesce un pochettino a farsi valere. Anche lui, che è l'ultimo per ora. È l'ultima ruota del carro. Noto dei cambiamenti del nostro incontro ad Accala. Hai acquisito molta esperienza grazie al tuo giro delle isole. Bene. Vai a farti onore anche con il prossimo avversario. Dicevo un'altra cosa, vai... No. Io devo capire cosa è questo. Non è folletto, però. Magatama. Magatama è... È psico. Psico volendo abbiamo... No, meglio non Salazzo. Abbiamo Aracuanid. Che potrebbe fare un pochettino, dato che è un po' indietro. Abbiamo anche Desiduai, soprattutto. Ma è Malpi? Sei giunto dalla nobile Malpi? Sono la principessa delle legate Pokémon. Comunque anche la rappresentazione dell'arena non è il massimo. Carino. Sicuramente meglio di Scarlato e Veletto. Comunque la schifo di... 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 Di robo... Per manicomio, veramente. Sembrava... Se ci mettevi i cuscini ai lati ci potevi rinchiudere i pazzi dentro. E... Ma vi dirò anche meglio di quelle di Diamante e Perla, per carità. Perché anche quelle non è che erano molto... Ma non è a livelli di bianco e nero. Bianco e nero però rimangono superiori. C'era la tizia che aveva il letto in cui dormiva. E poi il suo Pokémon era Musharna. Poi c'era quell'altro... Con... Che era Merton. Con... Ibuio che c'aveva tutto il suo trono. Però era carino. Scommenti che ti aspettavi trovare a gusto. No, mi aspettavo qualcuno di diverso, sinceramente. Se posso. Quando il protettore dell'isola l'ha lasciato come Kauna non ha avuto esitazione ad accettare. Invece quando è stato invitato nel Super 4 ha rifiutato senza troppi problemi. Ma non preoccuparti, lotterò con altrettanta abilità. Ma io volevo qualcuno di nuovo. Cioè... Io mi lamentavo di... Non mi ricordo neanche come si chiama. Il tizio normale in scalato e vioretto. Mi lamentavo di lui nonostante fosse anche... La... Ma è Spettro? Oh shit, lei è... Ma non è Psico. Eeeh... Ok, no. Se era Psico ho lo Sanguisuga che era perfetto. Eeeh... Spettro... Spettro? Non c'ho solo desiduai? Gli altri non c'è un ca... No, beh, comunque... Mi lamentavo del tizio là normale. Eh... Però... Ci stava come concetto perché era un... Lavoratore... A canete tutto. Allora faceva più lavori, no? Cioè era carina come cosa, come idea quella. Cioè qua siamo... Presente siamo a due... A due ripresi. Il terzo, spero, il volante è la... Oh, Tapso ci sta. Tapso è un 50-50. Però è valido perché non l'abbiamo mai sfilato. L'ultima volante, io spero che sia diversa, che sia quella là... Quei capelli acqua. Perché comunque il volante noi non l'abbiamo affrontato, quindi... Però loro no. Del Mais. Bellissimo, cacchio. Lui è Erba. Spettro. Andiamo con Salazzo, gli diamo fuoco. Ve l'ho detto che Del Mais sarebbe potuto entrare in squadra, eh. Il problema di Del Mais è che appunto Erba Spettro... Avrebbe trovato molti competitor, purtroppo. Perché c'è... C'è Mimikyu, ci sarebbe stato. Spettro Colletto. Quello sia. C'era Decidue Eye. Cioè, se non avessi preso Decidue Eye ci sarebbe stato Mimikyu, probabilmente. E se non avessi... Cioè, difficilmente sarebbe arrivato così in là. Ok, ricarica tot. Che sanno? Due ricariche tot a testa? No. Una. Va bene. Buono, buono, buono. Vai. In caso ci siamo fatti un paio di livelli. Palosan. Terra Spettro. Ce lo facciamo con questo. Sto pensando, eh. Perché magari mi tengo la Zeta. se c'è Mimikyu. Chi puoi avere te? Mimikyu o Gengar? Fin di foglia. Probabile brutto vuoto. E non è entrato. Eh, va bene. Va bene lo stesso. Tanto. Cade lo stesso. E... Non so chi potrebbe avere come altro. Però teniamo per il suo grosso cucitura d'ombra Spettro pompato. Oh. Ho capito. Ho capito. Vado con Togedemaro un attimo. Allora, la... Vabbè, no. Aspetta, il fatto è che... O c'è Scendineve... No. Però... No, non c'è Scendineve. Scendineve... No, sto pensando alla strategia che si era su Diamante e Perla. Scendineve ce l'aveva con l'altro. E... Lei c'aveva quell'altra abilità invece. Allora, andiamo così. E poi non l'ha colpiti più. Ti prego. Una mostra di fare. Bra. Va bene. Va bene. Scusi, da questo punto l'ammazzo. Si può? Cosa ho usato? Cosa ho usato? Non l'ho visto. Non l'ho visto. Occhio perché c'ha... Ok. Non ho capito che mossa ho usato, raga. Dai. Buono. Era brutto colpo. Bello brutto colpo con elettrococola. È incredibile. Drivli. Va bene. No, no. Va bene, va bene. Cucinitura d'ombra è fisico? Non so, però... Fa lo stesso. Anche se scoppia, però... Non penso che sia un problema. Via. Pensavo avesse Mimikyu. Effettivamente Mimikyu è... Era un dominante. Quindi non... È un po' come se Taps o... Taps o Taps... Taps... Avesse avuto... Proprio di mare. E non è il suo più forte, comunque, Drivli. 56. Froslass. Se Froslass è la scoppia. Non è scoppiata. Non c'è la scoppia. Cosa? Mi ha lasciato a bocca aperta. Oh! Sta andando bene? Adesso c'è la tizia volante. Abbiamo... Bisogna essere attenti. Abbiamo Togedemaru, ok. Ma... Abbiamo... Solo lui. Cioè, ci sarebbero acquani di congeloraggio, ma è... Pericoloso usare lui. Quanto pare le mie sogni di entrare campione se l'ho andata in fumo. Eh, si è dato su il ruolo qua. Nel senso... Per farti schiantare. Allora. Vai. 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 Va bene. Andiamo a mettere lui davanti. E... Volante? Io non so chi... Chi ci potrebbe essere di là. Di Pokémon. Cioè, so che ci potrebbe... Dovrebbe essere lei. Spero che ci sia lei. Quando ne era spettro, comunque. Quello è psico. Poi quel colore. C'è un bel colore. Non c'è un bel colore. Bene. No, anche perché poi ho detto, aspetta, verde. Però non è che... Ah, è... È erba. Quella come mazza da golf. Eccoti qui. Spero tu non abbia Swan. Per chi soffierà oggi il vento della vittoria. Lo scopriremo presto. Perché comunque assomiglia anche a Swan un po'. Però c'era già Nemone di là che c'era Swan. Cioè, anche meno. E com'è che si chiama? Sono la grande Cahili. Anch'io ho conquistato il titolo di campionessa del Giro dell'Isola alcuni anni fa. Dopodiché ho iniziato a girare il mondo per perfezionare la mia abilità nel golf e nelle lotte. Quando ho sentito che anche questo era stato fondato una lega Pokémon, sono tornata di corsa da Lola. Ora preparati. Ti mostrerò tutta la forza dei miei fidi Pokémon di tipo volante. Ma scusa un attimo. In teoria... In teoria il volante 1Z potevamo prenderlo quando avevamo fatto Tauros, no? Una volta sbloccata la mount di Tauros, vai a prendere il volante 1Z. Si può fare. E una volta che lo prendi, lei spawna. Però... Kukui non ha ancora iniziato a fare la lega, perché non c'è. Falla. Abbiamo dei buchi. Briil. Adiraka è l'unico. Togetemaro è l'unico. Eccoci. Guarda, sì. Uno. Sarà tempo, eh. 61, mi viene. Ma dove l'hai in squat? Non è vero, eh. Quegli altri erano... Auluccia. Auluccia. Possiamo... Possiamo andarci anche con un Ranguru. giusto per variare anche un pochettino. Abbiamo anche desidue con baldeali. Però... Anche lui è volante, quindi... Troppo di paura. Non sta bene. Colpo infernale. Eh. È super efficace. Ma che tipo è? Non c'è neanche vigore. Ma che culo c'ha? Aspetta, mo' ricarica tot. Let's go. Let's go. Fai un roll buono, dai. Niente. Niente. Quanto mi ha fatto di danno? 98. Risto giro, eh. Nooo! Peccato. Mi dispiace. Non ho capito più che altro... Le cose lì, però... Vabbè, forse... Allora, fammi andare così. Vediamo se lo fa. Vediamo se è stupida. Io faccio una cosa. Non ne vado tranquillo per i cacchi miei. Non fai colpo infernale, vero? Sotto che è il maro. Con... Probabilmente uno di vita. Lo fa. Ti prego. Cioè, è proprio l'ultima speranza, eh. Così messa male. Mandibuzz. Mandibuzz è buio volante. Buio. Ci sarebbe con le otto, ormai no. Non abbiamo il folletto. Continuiamo così. Non vorrei rischiare troppo con quell'altro. Mi fai un attimino per quel poveraccio. Per il telefono per il telefono. Ma non è così. Per il telefono per il telefono per il telefono. Non è così. Per il telefono per i baldi. E' buio. E' buio. osso raffica è terra? bastardo osso raffica è terra mi ricordo quel disgraziato marwak che palle non so perché ho messo comu è entrato da solo andiamo così vediamo meh 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 breccia meno da capire meno di quell'altro è super efficace cacchio è vero mi sono scordato che sto sto qua è lotta che mi guardi così no 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 mi ha messi male che che ho risuscitato prima allora mi ricordo commosi saluta stava andando bene vuoi che non succeda qualcosa? certo che succeda deve succedere qualcosa figurati osso raffica ha senso osso raffica ce l'ha cacchio ce l'ha incastrato dentro dalla capoccia ha senso sì oricorio quale? che palle oricorio quando entra in campo è che non sai mai qual è perché cacchio c'hai quattro tipi c'hai volante e che e sono tutti volanti qual è? c'è in base a quello cambia beh tengo toghi di mano entrerà quello rosso è sicuro stai a vedere cosa c'hai cosa mi vuoi tirare addosso dai dillo io faccio così muta danza ma porca vacca ma svelo allora cos'è muta danza dai ma che mossa è piedi rivest danza di piedi questo fa attacco di molto fisico non posso godere abbastanza peccato grego bravo via fuori dalle palle c'è anche di ricorio anche te tucannon ecco tucannon è uno dei pochi che non so che tipo è cioè volante sicuro perché è il piccione iniziale ma non so se è fuoco mi sa che è fuoco anche lui ho sbagliato non c'è un attacco troppato arrabbiatissimo come le bestie guardalo non è fuoco aspetta aspetta idro idro idrobreccia normale ha senso geloraggio è super efficace ma è normale è volante normale ah massazze no massazze volante me lo disintegra me lo disintegra ma come sta volando cos'era ma una mossa un movimento un'apertura di ali no cioè impalato così è impagliato ma tutto a posto cioè stai bene non lo so è impagliato voglio dire cioè io non so cosa ho visto raga fango bomba ci sopire almeno bravo almeno metà godo era quello a cui puntavo non penso mi interessi no mi fa la carica carica no fa la cura totale kg cioè mi ha fatto troppo ridere perché tipo era impagliato mentre volava cioè volava su così quindi aveva giù impicchiato c'è alcuni li vedi che tipo e poi c'è lui impagliato forse era la sua mossa cioè è fatta apposta è portata un vento nuovo da lola all'inizio non era molto convinta dell'invito del professor cocue ma ora sono felice di aver accettato è un peccato non aver saputo nulla su di te mi dispiace però potremmo considerarti un personaggio buttato allora cura lui cura lui cura lui poi poi c'ho tre ricariche tot vabbè c'ho undici pozzini max ma allora si gode si gode non c'ho altri strumenti uno due tre pronti poi mi dai anche un non c'abbiamo gli eteri configurati bacca baba baccamela mi riprendi un attimo breccia gli altri credo siano a posto ho elettropizzico forse di togedemaru lo stesso allora se adesso c'è cucui forma alola che è già forma alola di base forma mister mi ricordo come si chiama godo godo assai arrabbiatissimo non c'è nessuno non c'è campione e perché è nuova c'è per una volta effettivamente diventiamo campioni perché perché c'è no c'è sapete quella cosa del ok te sei il il capopalestra della città perché devi affrontare tutti quelli lì ok va benissimo te sei invece il campione della lega perché hai battuto tutti quanti e quindi sei diventato il campione anch'io ho battuto tutti quanti fammi diventare campione perché no entri nella sala d'onore ok ma loro come hanno fatto a diventare campioni cioè i requisiti quali sono per diventare il campione della lega battere tutti l'ho fatto anch'io ti prego sfidami sfidiamoci in una lotta per bene complimenti sei il nuovo campione della lega o meglio lo sarai se riuscirai a vincere anche la tua ultima sfida lo fa lo fa è impazzito cucù il tuo ultimo avversario sarò io scherzavo ma no ma io ci credi mi mandare il bambino sarò io e niente mi hanno mandato il bambino quando ho battuto il nonno all'apice della sua forza mi sono accorto di una cosa tu sei un punto di riferimento per me ma l'apice della forza del tuo nonno è macio pal 10 cioè fammi capire questo che c'hai primarina fammi capire questo ti ammiro tantissimo e penso che la tua squadra sia essenzionale e quindi voglio affrontare anche te una lotta all'apice della tua forza voglio vincere preparati perché faremo scintille è proprio nelle lotte fra allenatori che si conoscono bene come due amici che si tira fuori il meglio che pale mi stavo per sedere ok cut ci sta ci sta ma avrei preferito cucù sarebbe stato incredibile non battere nessuno cioè arrivare e vincere sarebbe stato bellissimo ma mi sarebbe andato anche bene cucù sinceramente eh ma allora fuckers andiamo con la con il rischioso godo godo parecchio la musica è strana mi fa ridere il fatto che quando ci sono le musiche e le cose così mettono sempre rock abbiamo uno cioè tutte quelle schitarrate comunque mi ha fatto 198 con un psichico eh giusto che non lo so così va bene va bene come volete flareon prego allora ricordiamo che è misto lui quindi vabbè in quel caso non sapevo neanche con chi dovevo entrare quindi fa lo stesso cioè andavo con toghi di maro e chi se ne frega ok hai ricariche tot si gli ho bastato la difesa vediamo un po' eccoci qua vabbè buono salazzolo 60 crabuminable lotta ghiaccio lotta ghiaccio come ok ma non ok oranguru salazzolo salazzolo e oranguru questa però è un'altra musica che cioè come quella di iris ricordo benissimo come si chiama iris credo quella di bianco e nero come la sua che non c'entrava molto non mi dava l'idea di campione dei campioni anche questa non mi dà l'idea di campione dei campioni per ora per ora sono un po' un po' tanto sotto quella di cinti cinti come cacchio ti chiamo cinziano come si chiama camilla mannaia taurus vai proviamo proviamo perché comunque taurus è taurus e lui è il cinquantasette quindi è sempre un bel rischio con commu perfetto anche meglio guarda tanto 73 quanto mi ha fatto 88 ma ma mi stecca a meno che non facciamo così lui usa un altro sdoppiatore sicuro droppa ancora la vita e poi si ricarica ce n'è un'altra vero di ricarica tot non fare il pazzo eh non ha un'altra ricarica tot ma sei 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 fuori ma è andata solo una non ammazzare di tre è giovane si è ammazzata da solo io non capisco sta roba di ammazzarsi i pokemon da soli però continuare a non capirla so perché gli avversari scegliono sempre la mossa dell'ammazzarsi di pokemon boh no iverne mi servirebbe un bel drive in questo momento no no anche una raccone potrebbe andare bene già però aspetta perché volano prego raccone almeno un colpo devi reggermi almeno uno vabbè qui c'è i primarina potentissimo vabbè è andata peggio del previsto vabbè quanto mi ha fatto vuoi? 86 mi fanno comunque sempre più della metà non me lo ammazzo me lo ammazzo allora abbiamo un revitalizzante max andiamo su combo un attimo non sarei riuscito comunque ad attaccarlo speriamo a montare le cartiglie per ora non mi preoccupo comunque non è mosse drago non mi ha capito tra l'altro perché è drago però fa lo stesso primarina eccolo qua se tengo in campo combo salta in aria quindi non è il massimo ti direi toghe de maru no cioè in realtà abbiamo toghe de maru abbiamo toghe de maru salazzol this is why c'è che mi viene a fine metà quindi vai tranquillo fagli in elettrococcola tanto adesso no ok poi se un brutto colpo con elettrococcola è sempre ah no lo fa il brutto colpo con elettrococcola è umiliante posso dire a me è benissimo se l'uvi adesso questo sembra l'ammazzo vabbè ma non c'era bisogno ogni volta è sempre la stessa storia l'ho capito lì sei paralizzato io spero che no spero vuoi che faccio un cuor di leone per essere sicuro no non ce n'hai bisogno vero bravo boh buono comunque sono contento abbiamo fatto una squadra adatta sono contento cioè per quanto sia stato un inizio difficoltoso per la squadra un inizio anche fino a metà gioco siamo siamo riusciti a recuperare una volta che la squadra era completa è stato incredibile mi sono sentito totalmente inizio con i miei pocman ma a quanto pare io e la mia squadra abbiamo ancora un po' di strada da fare per diventare i migliori di Alola strana sensazione ho perso ma è stata l'esperienza più entusiasmante della mia vita non riesco a separare la frustrazione per aver perso dalla gioia per aver lottato con te insomma è stato spettacolare fantastico fantastico proprio come mi aspettavo Samsung au siete stati entrambi straordinari avete scelto le mosse giuste le vostre squadre hanno lottato magnificamente le mosse giuste non lo so perché doppiatore con non so quanti HP non lo farei però oggi Alola ha un nuovo campione e non sei tu au scarso ma è lui come ti ho già detto in cima al picco Kulani i Pokémon e i allenatori di Alola sono davvero fantastici il mio desiderio più grande è sempre stato quello di farli conoscere in tutto il mondo grazie a te e alla tua squadra questo desiderio si è realizzato Samsung Oranguru siete straordinari grazie prego è stato un grande onore assista nella lotta così travolgente in questo logo emblematico Samsung primo campione della liga Pokémon di Alola il tuo nome e quelli delle tue fiere di compagni verranno ricordati per l'eternità questo questo va a tutti gli Oranguru però non ho non ho parole posso dire che non ho parole posso dire che non ho parole dai cioè alla fine purtroppo il discorso è sempre quello andando in blind su un gioco su un gioco Pokémon io non so che cacchio di capiparestra ci sono i tipi che ci sono non so i super 4 chi sono non so gli allenatori che si trovano non lo so non lo so mai adesso poi giusto perché conoscevo i Pokémon di settima gen conoscevo quelli di sesta i tempi li conoscevo un po' tutti però per esempio già dall'ottava e nona gen ero proprio in blind anche su quello quindi non sapevo neanche che squadra fare andavo semplicemente a gusti e dici cacchio quello è figo che tipo è ok così e poi in base a quello magari entravano in squadra o no è l'unica cosa che potevo fare qua li conoscevo ma non conoscevo nessun altro quindi anche qua è stato molto quello è bello quello che può dare ok quello che tipo è ok posto e ti fai la squadra così e poi la difficoltà anche che magari vado ad aggiungere è il fatto di selezionare proprio dei pokemon di quella gen perché cacchio magari dici ti vai a prendere un pokemon di un'altra gen ti vai a prendere un leggendario che cacchio ne so ok però per dirvi forse qua quello che stonava un pelino di più era Komu avrei potuto prendere qualcosa di diverso da Komu tipo tipo beh cacchio Nagana del Cera Drago Veleno poi al posto per il lotto avrei messo magari Krabominable avevo anche il ghiaccio non avrei preso Salazzol boh ci sarebbe stata anche un'altra squadra volendo si poteva fare tranquillamente anche un'altra squadra un po' se li decidui e vai mettere Incineror così togli il fuoco e il veleno per non mettere Salazzol non lo so c'erano diverse cose Samsung il tuo profondo amore per i pokemon ti ha portato fin qui e grazie alla sintonia con la tua squadra hai conquistato l'onore più alto i più grandi allenatori di allora verranno a sfidarti per contenderti il titolo non starò mai qua Samsung mi è venuto un'idea perché non facciamo una grande festa sono sicuro che tutti vorranno grongratularsi con il primo campione di Alola il nonno mi aveva promesso una festa in grande stile indipendentemente da chi avrebbe vinto però cacchio sai che palle aspettare qua la gente che arriva un po' tipo il re il re che se ne sta lì sul trono e deve fare andare avanti la gente con i loro problemi e invece qua arriva la gente a sfidarti che palle mi sembra un'ottima idea dobbiamo dare la notizia a Lilia forza teniamo le mele mele adesso capisco perché non hanno mai fatto il campione in un gioco poco anzi adesso capisco perché Ash ci ha messo così tanto a diventare campione perché poi è finito l'anime quindi non è che ah beh ok comunque stiamo andando ok avanti siamo tornati al villaggio non è finito non è finito perché c'è quella parte di postgame che avevamo visto oh Chris c'era quella parte da esplorare che è la prateria pony più la costiera mi pare si chiami c'è quella zona là comunque a destra di pony e una volta fatto quello possiamo sfidare il tipo lì che non so perché a questo punto l'hanno relegato a quella parte di gioco probabilmente perché cioè non è il più forte di tutti però sì cioè spero sarà forte suppongo e poi cos'altro c'è i leggendari raga le ultra creature c'è da fare abbiamo da fare molto bene diamo inizio i festeggiamenti rendiamo onora il primo campione della liga pokamon di alola sono un robot non saluto nemmeno niente oh ciao mamma vabbè non c'è neanche bisogno di stare dietro gli alberi ecco magari ti arresta ah no ok non ti vedo se Lilia era felice loro qua come si chiamava lei plumere a petunia plumere e c'ha ha una x ok ha sciolto il team school e lui lui adesso ok si è fatto comunque gli amici per dire che sono rimasti lo stesso anche se non era solo per il team school sono rimasti per lui quella era una roccia che non mi ricordo l'avevano vista ma non mi ricordo che cacchio era zigard ok va bene no ma era la grotta delle non era la grotta di x e y quella non mi ricordo come si chiama acromio non mi ricordo non mi ricordo neanche come si chiama lui vinci ci stanno dicendo dove andare per caso gangnam style gangnam style ah beh ok ognuno che fa la sua bravissimi che è successo lui sta partendo no non ti ne andare si ho bisogno di crescere ancora un pochettino devo andarmene via da quest'isola per esplorare nuovi mondi e crescere come persone ok che se ne va davvero ok ma loro sono tutti uguali ma vabbè ma cambiali i modelli un attimino probabilmente le dà la stessa immagine alla mamma purtroppo ha problemi alla mano c'ha un palmo è un tutt'uno qua non si è sviluppata bene la mano può capitare ma perché c'è sempre malpi in giro ah beh ma siamo un po' io non capisco tutta questa importanza di malpi tappucoco ok ci ha chiamato ma l'invasione di ultracreature che era arrivata durante l'attacco di eccolo c'era stata l'invasione delle ultracreature durante l'attacco di necrosma che fine hanno fatto cioè va bene di chiudere il portale ma chi le ha buttate via i guardiani i tapu hanno se riuscite a tirarle giù dovrebbe essere il loro compito quindi forse ha senso però ok allora da quello che mi sembra di aver capito dobbiamo andare a Leather Paradise perché lui è sceso e fa qualcosa che è un acromio dobbiamo cercare Zigard non ho capito in che grotta è quella è la grotta di bianco e nero di XY ma non penso di riuscire a tornare là e magari è a destra la zona scogliera di poni la itapu e dobbiamo capire le ultracreature ma penso che tipo si prendano tramite quei portali guarda come sono tutti contenti e lo credo bene non capita tutti i giorni di poter celebrare il più grande allenatore di Alola stavolto perso ma farò del mio meglio e imparerò a essere in totale sintonia con la mia squadra e alla fine sarò in grado di battere anche te Samsung il campione di Alola Samsung o meglio campione mostra a tutti i tuoi fideli compagni i tuoi inseparabili pokemon che ti hanno accompagnato in questa straordinaria avventura al giro delle isole dicevo tira fuori Ranguru così e basta solo lui questa mamma mi ha dato i tuoi occhiali tesoro sei la stella di Alola ogni scarravone bella mamma sua vabbè fammeli vedere facciamo uno screenshot con tutti quanti insieme no finito così sono a casa non ero più tornato a casa effettivamente come non gli avventura pokemon come giusto che sia la casa si dimentica cacchè 2017 sta roba raga cioè solo sette anni fa no che poi in realtà no aspetta perché è ultra sole ultra luna non sole e luna erano usciti prima però pensare allo schifo che hanno tirato fuori dopo non è proprio il massimo bene no Grazie a tutti.